una puntata quella di oggi di agrisapori dedicata al cibo alla cucina e ai sapori ma non solo a quelli italiani ma anche a quelli oltre mare e oltre oceano ma partiamo dal nostro paese siamo tornati all'istituto professionale statale colombatto di torino scuola che forma gli studenti nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera la storia di questa scuola risale all'inizio del secolo scorso ed è documentata in modo ufficiale in alcuni registri di frequenza ancora esistenti risalenti all'anno scolastico 1929-1930 risulta che a quel tempo in torino esisteva una scuola ad indirizzo alberghiero nel 1910 viene costituita una scuola di lingua francese per camerieri e garzoni d'albergo mentre nel 23 il comune nomina un suo rappresentante presso la scuola pratica dell'albergatore l'istituto colombatto è dunque una scuola con forti radici nel passato ma altrettanto presenti e forti sono le iniziative rivolte al futuro non solo dell'istituto ma soprattutto al futuro degli studenti una di queste iniziative è proprio quella offerta da conf imprese nord ovest confederazione che realizza progetti culturali commerciali istituzionali ed accademici tra l'italia e la cina volti a fornire delle grandi opportunità alle realtà italiane attraverso la promozione delle eccellenze del media è preferibile far valutare i nostri prodotti da una commissione che dà un giudizio su questo dei primi sono quelli che riteniamo più appetibili per i buyer per gli distributori cinesi oggi presentiamo in particolare la cantina bersano che è un'eccellenza del piemonte una cantina dove ha vini piemontesi ma anche i vini toscani questo ci permette non soltanto la semplice la mera presentazione dei vini piemontesi ma avere anche un elemento importante la comparazione tra quelli che sono i vini piemontesi con quei vini toscani questo permette anche ai nostri ragazzi del colombatto perché oggi siamo nell'istituto colombatto proprio per dare la possibilità ai nostri ragazzi che diventeranno ambasciatori del nostro prodotto all'estero di affinare meglio la conoscenza e la cultura del vino parlando di ragazzi vediamo che il numero di studenti coinvolti aumenta lezione dopo lezione un interesse sempre maggiore verso le opportunità di lavoro fuori in azione? sì questo è vero perché logicamente il progetto innovativo sulla fase iniziale tutti indistintamente sia gli imprenditori così come i docenti così come i ragazzi c'è un minimo di diffidenza è chiaro che hanno notato un maggior impulso una maggior professionalità e una accelerazione in quello che è il percorso della internazionalizzazione dei prodotti e quindi della stessa azienda verso il mercato asiatico in particolare attualmente Confimprese Nord-Ovest può essere considerata una delle poche strutture italiane munite di un'esperienza storica nel panorama cinese? beh il nostro compito è quello di fare degli ambasciatori e delle nostre aziende logicamente siamo una confederazione e come tale continuiamo a fare il nostro mestiere cioè rappresentare le nostre aziende italiane in un mercato come la Cina perché le nostre aziende italiane hanno bisogno di una maggior tutela e di una maggiore professionalità per penetrare questi mercati e per avere la possibilità di internazionalizzare il nostro prodotto internazionalizzazione del Made in Italy proposto e presentato da italiani per questo continuano le giornate studio qui a Colombatto non solo legate al vino sì il vino è uno degli elementi fondamentali dell'economia piemontese ma non solo al di là del vino c'è tutta una serie di prodotti che vanno dalla cioccolata che vanno alla pasta ma allo stesso servizio che è il servizio del ragazzo che studia all'interno dell'istituto Colombatto quale può essere la sala, quale può essere il bar, la reception eccetera questo permette al ragazzo come dicevo di affinare meglio anche le stesse tecniche e di affrontare mercati internazionali In degustazione oggi i vini della Cantina Bersano un'azienda risalente al 1907 legata da sempre ai grandi vitigni piemontesi quali Barbera, Nebbiolo e Brachetto vini che voi oggi già esportate in Cina? Sì, diciamo che in questo momento lavora moltissimo con l'estero e da anni abbiamo iniziato questo percorso con soddisfazione perché attualmente siamo distribuiti in 60 paesi diversi ed è sempre la ricerca di un importatore qualificato che ben distribuisce soprattutto nell'Oreca quindi un unico importatore in ogni mercato per una distribuzione concentrata sulla ristorazione Quanto del vostro vino viene esportato e quanto resta sul territorio italiano? Diciamo che le cifre degli ultimi anni parlano degli ultimi 2-3 anni un 65% di esportazione e il resto rimane in Italia Vuole spiegarci qual è il vostro rapporto con il mercato cinese? C'è un rapporto diciamo affettivo molto lungo perché abbiamo iniziato a lavorare in Cina nel 95 a correnti alterne e prima moltissimo poi abbiamo un pochettino sempre per un discorso di ricerca diciamo di una buona distribuzione in questo momento stiamo lavorando abbastanza bene e con un importatore fedele quindi comunque c'è stata continuità Quali sono le caratteristiche giuste che deve avere l'importatore? Vogliamo dare un consiglio a questi ragazzi che dovranno relazionarsi con questi mercati? Sicuramente l'importatore giusto è soprattutto un importatore che collabori che capisca un po' la nostra mentalità italiana per il mercato cinese quindi noi ci siamo riusciti sicuramente non sono i vini del Piemonte non solo i nostri vini in particolare non sono vini facili ci sta aiutando molto sicuramente il discorso UNESCO quindi il turismo, la cucina, il territorio tutti questi discorsi ci stanno aiutando moltissimo quindi abbiamo ripreso questa distribuzione Ma i consumatori cinesi in questo momento sono pronti al consumo dei nostri vini? Sono pronti anche perché adesso viaggiano molto di più è un mercato che comunque riesce a costruire in pochissimo tempo qualsiasi cosa e capiscono molto di più probabilmente visitandoci anche molto più spesso la nostra cultura, la nostra tradizione adesso è molto più recepita quindi sicuramente sì Vittorio è uno dei tanti ragazzi dell'istituto che crede in questa iniziativa Per te e per i tuoi compagni Vittorio, cosa rappresenta questa esperienza di confronto con mercati diversi dei nostri? Sicuramente ci affaccia a un nuovo mondo che può essere quello del vino una cultura, una passione che noi un domani dovremmo trasmettere a tutti i clienti all'interno dei ristoranti sicuramente è un argomento molto importante da trattare a scuola è molto importante che aziende esterne alla scuola investano sulle scuole e quindi facciano promozione anche dei loro vini all'interno delle nostre lezioni Ovviamente ci dovesse mai essere un'occasione di andare all'estero e esportare il prodotto italiano alla cultura italiana noi non dovremmo mai avere paura di questo ovviamente si parte dal nostro territorio siamo fortunati a essere qua a Torino in Piemonte una delle regioni più forti con il vino in Italia però ovviamente ci sono paesi esteri come può essere anche la Cina che si sta approcciando a questa cultura dove magari entra anche nella loro dieta il nostro vino italiano Faresti l'ambasciatore in Cina dei vini italiani? Certo, perché no? Sarebbe un onore E chi non vorrebbe anche solo per orgoglio essere ambasciatore della nostra bella Italia delle nostre belle città storiche visitate ogni giorno da milioni di turisti e tra queste certamente in primis troviamo la romantica Venezia ed è proprio da qui, dalla città lagunare che noi vi proponiamo il prossimo servizio Fabrizio Salce, il nostro invitato speciale ha raggiunto un tradizionale baccaro il baccaro o bacareto è un tipo di osteria veneziana a carattere popolare dove si trova una vasta scelta di vini in calice e piccoli cibi e spuntini il baccaro è caratterizzato da pochi posti a sedere e da un lungo bancone vetrinato in cui sono esposti i prodotti in vendita più raro è il caso di baccari che servono piatti più elaborati o che offrano un vero e proprio servizio di ristorazione siamo tornati amici cari con le nostre telecamere nell'affascinante Venezia siamo a Santa Fosca un baccaro particolare molto molto bello con me, Gerardo Toso Gerardo caro qui ci sono un sacco di cose buone ma abbiamo cose belle da dire da raccontare perché se ho ben capito questo è un baccaro tipico quello che una volta si chiamava malvasie vero? esatto esatto nel senso che una volta il termine baccaro non esiste nella terminologia veneziana è stato importato da Roma Malvasie, termine del passato storico ma del presente perché Malvasie è un progetto tu con Giorgio e Enrico due amici, due soci ma soprattutto due grandi amici che cosa state facendo? allora con Malvasie distribuzione di vini stiamo facendo veramente una ricerca sul territorio di prodotti tipici vini certo e niente quindi una ricerca di qualità anche di piccole realtà sì assolutamente noi infatti cerchiamo proprio quei viticoltori poco conosciuti del territorio bene italiano nord Italia sì 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 attenzione vini del territorio nord Italia anche aziende più piccine però poi l'abbinamento con i prodotti di questa terra vedo dei insomma favoloso cosa c'è? dai allora sì abbinamento abbinamenti proprio tipici nel senso che abbiamo le seppie in nero della ricetta della nonna straordinario il vigo in salsa con le acciughe perciò cipolle acciughe e i lupini lupini per voi bevarasse da parte nostra come te ci abito? le chiamiamo bevarasse ecco no perché è bello sapere i dialetti della nostra Italia poi naturalmente i salumi formaggi abbinati proprio a questi vini che loro vanno a ricercare siamo proprio su un canale è facile affacciarci alle finestre vedere le gondole che passano e dove siamo? chi viene a trovarsi? dove viene? siamo in campo Santa Fosca ecco hai capito allora dove c'è il monumento fra Paolo Sarpi una lunga storia collegata alla Serenissima collegata alla storia di Venezia e quindi veramente un campo impregnato della storia tipicamente veneziana allora Malvasie Santa Fosca l'amico Gerardo Enrico e Giorgio chiaramente con lui le cose buone di Venezia una bella Venezia e le nostre telecamere che vi hanno portato ancora una volta una chicca della nostra Italia grazie caro grazie a te ciao grazie dal mare Adriatico dove sfocia il fiume Po risaliamo alla sua sorgente andiamo infatti in Valle Po alle pendici del Monviso dove ad aspettarci troviamo un altro ristoratore un agri chef Gianfranco che ci preparerà un piatto dal nome d'Oltralpe che è eredita dalla vicina Francia infatti stiamo parlando dell'uovo pochè bentornati all'agriturismo La Virginia di Revello oggi facciamo una ricetta speciale facciamo l'uovo pochè l'uovo pochè è un uovo fritto con il cuore morbido prepariamo la fonduta di Castelmagno prepariamo il Castelmagno lo facciamo a dadini e poi lo faremo fondere con un po' di panna fresca naturalmente anche un pizzico di sale se ci può stare benissimo e portiamo sul fuoco a fuoco lento oppure anche a bagnomaria può andar bene facciamo bollire l'uovo per 5 minuti poi viene raffreddato di colpo e sgusciato le nostre uova si sono raffreddate adesso passiamo alla alla seconda parte della ricetta andiamo a sgusciare le uova qui è un lavoro che bisogna fare con molta delicatezza vi ricordo che l'agriturismo alla Virginia è aperto tutte le sere e la domenica a pranzo abbiamo 7 camere dove potete alloggiare e da qui partono parecchie passeggiate naturalistiche siamo ai piedi del Monviso abbiamo due passi abbiamo i laghi i laghi del Monviso i rifugi c'è Saluzzo già più una cittadina con negozi era la capitale del Marchesato quindi è piena di storia e si può si può passare delle bellissime giornate bene adesso andiamo a impanare le nostre uova mi raccomando sempre siate delicati perché le uova l'uovo dentro è ancora morbido l'uovo deve essere più fresco possibile altrimenti si spacca durante la bollitura benissimo andiamo a impiattare il nostro nostro uovo un po' di crema voilà e un po' di pepe perfetto il nostro piatto è pronto la bellezza di questo insieme dell'uovo poché è quando viene tagliato praticamente il cuore è morbido quindi si lascia andare e si mischia al Castelmagno alla fonduta di Castelmagno dalla Virginia di Revello è tutto vi aspetto per assaggiare i nostri piatti preparati con prodotti del territorio e abbinati ai vini della zona vale un Peru un modo di dire con cui un tempo si indicava qualcosa ad un valore davvero inestimabile e non è un caso se Michele e sua moglie Patricia hanno proprio voluto così chiamare il loro ristorante un autentico omaggio alle varie regioni della terra di origine ai piatti della cucina andina come a quelli di pesce della lunga fascia costiera ad un paese che nel suo insieme è realmente un forziere una miniera di ortaggi spezie e prodotti di ogni genere Federica De Luca ci guida fra le coloratissime meraviglie che dopo la conquista spagnola del Sud America si sono splendidamente inserite nella cosiddetta dieta mediterranea Michele Bustinza siamo a Torino ma in realtà dall'altra parte dell'oceano siamo in Peru ecco la cucina peruviana che è un po' una grande scoperta ma soprattutto appunto partendo da quelli che sono i prodotti prodotti di una grande varietà perché un paese come il Peru va dal mare quindi zero metri sul livello del mare fino ai 4.000 metri quindi una grande varietà di coltivazioni di prodotti e di diversità sì effettivamente avendo quattro regioni naturali abbiamo l'oceano Pacifico la nostra costa le montagne e anche la parte tropicale la selva amazonica e ci regalano appunto tanti tanti prodotti cereali per non parlare dei patate ci sono più di 3.800 tipi di patate nei mercati del Peru si possono trovare una ventina una trentina di quelle che si utilizzano di più tutti i giorni e anche l'Amazonia ci regala tanti prodotti varietà di maniocca papaya platano tipi di patate che sono molto simili a quelle andine cucina peruviana che è anche un anello di congiunzione tra quella che è cosiddetta oggi la cucina mediterranea e tutte quelle che sono i prodotti che sono arrivati proprio dal sud America a seguito dei conquistadores e dopo la scoperta dell'America e che si sono fusi e reciprocamente scambiati odori e fragranze a questo proposito puoi dire che cosa abbiamo dato noi alla cucina peruviana e che cosa ha dato la cucina peruviana perché altro il Peru come paese come zona di coltivazione a noi prima della scoperta dell'America il Peru aveva una cucina completamente diversa basata prevalentemente su cereali e patate le patate il mais in primis i peperoncini dati al mondo all'Europa di quel momento e noi in cambio abbiamo ricevuto molte ma molte cose importanti che oggi fanno parte della nostra cucina le carni bovine il maiale che non c'era assolutamente in Peru ma anche verdura come la cipolla il nostro ceviche non sarebbe quello che oggi senza l'aggiunta del limone del lime e appunto come dicevamo delle cipolle ecco un accenno giusto al ceviche perché non per tutti è comprensibile che cos'è che è un po' il piatto ambasciatore della tavola peruviana è il nostro piatto simbolo è il nostro piatto di bandiera per il Peru per i peruviani è molto importante è un piatto a base di pesce fresco ci sono dei locali in Peru a Lima prevalentemente dove si mangia solo ceviche quindi una cevicheria è molto facile da trovare per le strade di Lima una nota curiosa che è bene ricordare la vostra cucina è speziata è piccante oppure è un luogo comune da sfatare la cucina peruviana credo conti con pochissimi piatti che nascono piccanti il ceviche è uno di questi vuole un pizzico di piccante comunque in realtà mangiamo tanto peperoncino ma è molto facile trovare nelle case delle famiglie una ciotola con una salsa piccante centrotavola chi vuole la giunge chi vuole no la cucina è veramente un po' un racconto visivo e di sapori di tutta la storia del mondo effettivamente sì è un viaggio continuo uno spostarsi dei prodotti continuamente che vanno molte volte ad arricchire a trasformare una cucina a proporla in modo diverso e che possa essere sicuramente gustata da tutti questo viaggio tu hai voluto compierlo in questo tuo ristorante che in realtà è il secondo ristorante da cinque anni che è aperto appunto in un angolo di Torino anche perché la tua esperienza non è nata dall'improvvisazione ma nata da un'esperienza di famiglia sì mamma ha fatto la cuoca per quasi 40 anni abbiamo avuto anche un ristorante nostro e la passione per la cucina per il prodotto nasce da quella esperienza di famiglia poi sono nato a Lima i miei sono di Cusco delle Ande io nascendo vicino al mare ho avuto un contatto diretto con pescatori con prodotti oggi amo cucinare cucina di mare ma i miei origini di montagna mi portano molto a utilizzare tanti prodotti delle Ande peruviane davanti a questo tavolo che è veramente un ben di Dio ed è una gioia di colori e di profumi mi puoi far vedere quali sono alcune di quelle varietà di patate di cui tu hai fatto accenno sì effettivamente ci sono molti tipi di patate in Europa riusciamo a trovare il camote che è la patata dolce alcune patate native proveniente dalle Ande e per parlare dell'Amazonia abbiamo questo in realtà oltre che un tubero è una radice ma si adopera come le patate della manioca e poi abbiamo la uncuccia che viene anche quella dell'Amazonia un po' di montagna un po' di Amazonia è un tipo di patate che ha una caratteristica particolare si usa e si consuma allo stesso modo delle altre tradizionali chiamiamole tradizionali sono diversi tipi nel nostro ristorante adoperiamo almeno un 4 tipi di patate ci piace anche contare con prodotti del territorio la Val Sangone produce e ci fornisce di patate che sono molto simili alle nostre le quali poi le adoperiamo nei nostri piatti allora Michele mille grazie per questa lezione non di cucina diciamo cucinata ma di storia della cucina a dimostrazione di come i popoli possono conoscersi e incrociarsi lungo il corso della storia a questo punto non ci resta che dire buon proveccio da Valeum Peru grazie Federica e visto che avete nominato il ceviche andiamo in cucina con Miguel per conoscere come lo si prepara oggi vi presenteremo la preparazione di uno dei nostri piatti più rappresentativi ovvero il ceviche abbiamo in questo caso gli ingredienti che sono necessari per la preparazione del ceviche 5 alla base sono quelli più importanti in assoluto ovvero pesce in Italia noi usiamo la ombrina in Peru è sicuramente molto più frequente lavorare con la corvina questo è molto simile è un parente molto stretto della corvina e quindi va molto bene allora abbiamo oltre al pesce ovviamente la cipolla rossa il sale il lime il peperoncino che sono molto importanti oltre al pesce sono i 5 ingredienti necessari come contorno useremo la patata dolce il camote il mais cioclo peruviano che è bollito abbiamo anche un altro tipo di mais che è quello cancia che va tostato ed è croccante il piccante lo potete regolare voi come volete poco tanto normale quanto basta noi peruviani amiamo anche questa erba fresca che è il coriandolo chi non la vuole non la può usare non è un ingrediente indispensabile nel ceviche bene proseguendo con la ricetta abbiamo già pronto il filetto di pesce abbiamo detto in questo caso stiamo lavorando con l'ombrina è cruda in sicurezza abbattuta abbiamo tutti gli ingredienti pronti procediamo con la preparazione del ceviche dobbiamo tagliare il nostro filetto di ombrina in cubetti leggermente grossi non molto potrebbe cambiare la dimensione in base al piacere chi magari lo vuole in cubetti pochino più piccoli o chi preferisce i cubetti un pochino più grandi e quello è già una questione personale io preferisco i cubetti che non siano troppo piccoli mi piace sentire bene il gusto del pesce crudo potete fare altrettanto voi o come dicevo se volete tagliarlo in cubetti più piccoli una porzione personale è pari a un etto un etto e 30 esagerando un etto e 50 ricordiamoci che trattasi comunque di pesce crudo e quindi non troppo abbondante faremo che marinare molto velocemente i nostri cubetti di pesce una volta tagliata l'ombrina aiutandoci con un contenitore io sto usando una bull di acciaio mettiamo il pesce qui dentro e possiamo vedere che deve essere abbastanza capiente per poter marinare il pesce metteremo per prima cosa il sale questo è importante per far uscire i gusti del pesce l'umami del pesce quindi metteremo del sale per una porzione di 200 grammi basta per due persone mezzo cucchiaio di sale ed iniziamo a girare il pesce bene dopo aver messo il sale ai cubetti di pesce dobbiamo procedere con il succo di lime ok senza spremere troppo a noi bastano solo il succo senza estrarre gli oli grassi della buccia perché se no poi rende amaro il piatto quindi più o meno a metà schiacciamo il nostro lime uno due a seconda di quanto succo possa avere il lime e non di più ok otterremo questo risultato il sale che ha fatto fuoriuscire i gusti del pesce e il limone al momento di incontrare il sale con il pesce daranno vita a quello che poi sarà la lecce dei tigre ovvero l'essenza del ceviche nel piatto bene mentre il pesce inizia a marinare con sale e lime prendiamo due foglie di coriandolo per chi lo vuole naturalmente per noi che siamo fuori dal Perù è un gusto che ci ricorda a casa quindi ci avvicina un po' a casa mettiamo solo un pochino di foglie di coriandolo metteremo anche questo come abbiamo detto a piacere un po' di peperoncini mettiamo un pochino di piccante questo al vostro piacere diciamo che il ceviche è tra i pochi piatti peruviani che nascono piccanti in realtà noi mangiamo piccante sì ma sono delle salse messe a tavola chi desidera ne aggiunge quanto vuole se lo vuole bene adesso ha marinato per tre minuti circa il limone il sale il peperocino il coriandolo hanno dato vita a quello che noi chiamiamo lecce di tigre ovvero la marinatura che accompagnerà la degustazione del piatto abbiamo un piatto fondo principalmente per evitare che la lecce di tigre si allarghi e poi non possiamo gustare bene il ceviche sistemiamo i cubetti di ombrina nel piatto e qui con la lecce dei tigre decoriamo con un po' di cipolla rossa tagliata julienne i nostri due tipi di mais peruviani abbiamo questo cotto che è il cioclo e questo croccante salato appunto che darà quel tocco di croccantezza necessaria l'equilibrio finale lo dà il camote ovvero la patata dolce quindi lime acidulo sale coriandolo cipolla fresca e anche patata dolce dal ristorante vale un perù di torino questo è il nostro ceviche classico di ombrina buon proveccio sull'origine della ricetta esistono diverse interpretazioni alcune fonti affermano che ceviche derivi dalla parola cibo così infatti veniva chiamata l'esca utilizzata dai pescatori di origine africana lungo le coste peruviane nel momento in cui il padrone dell'imbarcazione ordinava il pranzo divideva il pesce crudo avanzato come esca tra i pescatori e siccome era un pesce sicuramente scadente se non addirittura puzzolente i pescatori solevano unirgli del limone dell'aglio e della cipolla allo scopo di renderlo più gradevole così al posto di cibo la parola si è modificata in ceviche e proprio con il cibo con il quale abbiamo aperto la puntata di oggi vogliamo anche chiuderla la cucina è stata protagonista in questa puntata di agrisapori che speriamo vi abbia tenuto compagnia e magari anche solleticato l'appetito la redazione di agrisapori vi dà appuntamento alla prossima settimana con altri viaggi e altri amici e vi invitiamo intanto a restare con noi e continuare a seguire i programmi di questa emittente a seguire i programmi e continuare a seguire i programmi